Dal comunicato stampa in relazione agli eventi che state organizzando per il 29 febbraio e per il primo marzo prossimo 21, che stanno arrivando, leggevo proprio alla lettera, dunque, nella Locride per resistere e soprattutto per vincere in Calabria. Un'alleanza contro l'andrangheta e le massonerie deviate per la democrazia e il bene comune. Il percorso fatto insieme a Monsignor Bregantini ha risvegliato in noi la forza di sognare, ci ha restituito la certezza di poter cambiare la nostra terra. Da questo percorso sono nati tanti fatti, realtà tangibili di cambiamento. Ecco, io ti chiedo se ci puoi spiegare quali realtà sono nati in Calabria in questi ultimi 13-14 anni, con l'aiuto anche di Monsignor Bregantini. Inizialmente abbiamo avviato un servizio di accompagnamento alla creazione di impresa, espressione sia della pastorale del lavoro, della diocese di Locri, sia del progetto Policoro, che ha aiutato a creare numerosissime imprese. Dopo 10 anni di lavoro abbiamo fatto una stima, siamo a più di mille nuovi posti di lavoro che abbiamo contribuito a dar vita nella Locride. La Locride sono 140 mila abitanti e più della metà dentro delle cooperative. Durante il percorso però abbiamo anche affinato l'idea di impresa, di cooperativa. Abbiamo capito sempre di più che la nostra idea di impresa era fortemente radicata a una comunità, fortemente orientata al bene di quella stessa comunità. E' stato gioco forza prediligere la cooperazione sociale e nello stesso tempo anche fare assumere alla cooperazione sociale un chiaro progetto di cambiamento del territorio. Si sono costituite, si sono rafforzate le cooperative sociali, sono nate esperienze anche di tipo produttivo nelle cooperative sociali, dal turismo responsabile. Noi abbiamo avviato adesso un'agenzia di turismo responsabile con il marco I Viaggi del Goel dove proponiamo pacchetti di turismo responsabile nella Locride. Abbiamo avviato esperienze collegate sempre al turismo, di ristorazione. Abbiamo un hotel tre stelle presso in gestione, abbiamo presso un carcere mandamentale, l'abbiamo trasformato in una casa per ferie. Abbiamo delle cooperative artigianali che vanno dalle confezioni per bomboniere ai tessuti con i telai artigianali, continuando anche alle attività di ricamo, sia ricamo artigianale sia ricamo con le macchine. Abbiamo un'attività di riciclo di indumenti usati, non solo raccolta differenziata, prendiamo indumenti usati in cotone e li ricicliamo e ne facciamo pezzame per la pulizia di macchine industriali. Abbiamo una bottega del commercio ecosolidale e abbiamo una bottega online di commercio ecosolidale, bottegasolidale.com che è una delle più grosse botteghe ecosolidali online in Italia. Abbiamo attività nell'ambito dei servizi alle imprese, perché ce le siamo dovuti creare per le nostre cooperative e piano piano sono diventate, questa è una grande soddisfazione, dei servizi ricercati anche dalle imprese profit del territorio. La cooperazione sociale fa servizio alle imprese e alle imprese profit. Ecco, c'è un panorama veramente ampio, oltre ovviamente i servizi sociosanitari, di servizi sociali, di prevenzione della devianza, l'agricoltura, insomma, ampi spazi. Io so che in questi anni di durissimo impegno le organizzazioni della Locrede hanno subito attentati, intimidazioni, campagne diffamatorie, tentative più o meno velate di delegittimazione. Ce ne vuoi parlare un pochino? Sì, diciamo che abbiamo avuto sempre dei problemi, però non sono stati mai così rilevanti fino al momento in cui abbiamo deciso di spiegare pubblicamente quello che avevamo capito durante la nostra attività imprenditoriale. L'attività imprenditoriale di impresa sociale, che si incrocia naturalmente anche con la dimensione politica, con le amministrazioni locali, è stato per noi un osservatorio straordinario, perché ci ha consentito di decodificare il territorio, di capire come funzionava. E lì abbiamo scoperto che, per esempio, il mancato sviluppo della Calabria non era un caso, non era solo frutto della storia, non era solo un problema culturale, ma era anche il prodotto consapevole di un sistema pensato per creare la precarietà e farne la manutenzione. Rispetto a questo, quando abbiamo spiegato pubblicamente come funzionava questo sistema di precarietà, il fatto che era governato sia dall'andrangheta, sia dalle massonerie deviate, strettamente e intimamente collegate tra di loro, da lì è iniziato un po' il nostro calvario di attentati veri e propri, violenti, intimidatori, di intimidazioni più o meno velate, di pressioni, di campagne diffamatorie. Tutto è partito dall'attentato alle serre, dove sono state avvelenate migliaia di piantine di frutti di bosco, poi è continuato in mille altri modi, campagne diffamatorie sui giornali, collegate anche agli attentati, altri attentati a cooperative a noi vicine, sia geograficamente sia come relazioni, una cooperativa di ardore che gestisce un centro polifunzionale prima dell'estate è stata colpita per ben due volte in due settimane di seguito. Quindi sostanzialmente noi abbiamo capito che quando abbiamo svelato il sistema, abbiamo spiegato come funzionava, soprattutto abbiamo denunciato questa collusione con la massoneria deviata, da lì è iniziato l'attacco frontale vero e proprio. Attacco che fortunatamente non è riuscito perché siamo riusciti a mettere in moto una rete in tutta Italia che è stata capace di fronteggiare questi poteri di morte. La strada giusta è quella di parlarne, 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 fare capire insomma, in maniera tale da coinvolgere il maggior numero di persone possibili in un progetto che diventa poi il progetto di tutti, non è solo il progetto della Locrede. Sì, esattamente. Diciamo che gli ingredienti secondo noi sono tre. Fare delle cose che rompano le regole di quel sistema. Parlare, nel senso di spiegare il senso di quello che facciamo e spiegare anche come funziona il sistema, disoccultarlo, farlo vedere a tutti nella sua aridità, nella sua violenza, svelare questa violenza. Terzo, creare sistema, creare rete. Se manca una di queste tre cose, l'azione non solo non riesce, ma rischia di diventare veramente controproducente per chi la fa. Bisogna porre dei segni concreti, bisogna saper spiegare e parlare la forza della parola sui segni, assume una potenza straordinaria, e infine riuscire a creare un sistema capace di fronteggiare un altro sistema. E' inutile pensare che le volontà, le attitudini isolate di persone singole, ma anche di cooperative singole, possono fronteggiare una cosa di questo tipo. E' necessario organizzare sistemi ampi ed è necessario soprattutto per il terzo settore, per la società civile, avere la capacità e la lungimiranza di andare oltre le differenze e unirsi per delle cause più grandi. Questo all'interno anche di una presa di consapevolezza che il problema non riguarda solo la Calabria, riguarda molto il nord in questa fase storica, sia perché l'Andrangheta si sta infiltrando velocissimamente in alcune regioni, in particolar modo Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, sia perché il problema delle massonerie deviate non è un problema solo nostro, sia perché le collusioni con la politica, i meccanismi di controllo del consenso elettorale al sud, ma anche in aree del nord, rischiano di compromettere l'intera democrazia italiana. Da questo punto di vista noi pensiamo che non si tratti più di vedere in modo semplicistico le cose, pensare che in Calabria hanno un problema, hanno la mafia, poveretti, dobbiamo aiutarli, esprimiamo solidarietà nei loro confronti, eccetera. No, si tratta invece di acquisire la consapevolezza che dobbiamo costruire un'alleanza, dove c'è una convivenza di interessi a nord come a sud perché questa battaglia venga vinta e portata fino in fondo. E questo è il senso dell'alleanza che abbiamo proposto e lanciato. Infatti è proprio un combattere un certo sistema. Io trovo per esempio che parlare di Andrangheta, parlare di Camorra, parlare di mafia, anche distinguendole come se fosse qualcosa di accreditato. Significa da un certo punto di vista, non so, dare forza, anche solo dal punto di vista concettuale. Forse sarebbe meglio cominciare a parlare di sistema mafioso quasi svilendo, non sottostimando perché il problema è gravissimo, ma svilendo anche quelli che sono gli interlocutori. C'è questo sistema mafioso che non ci frega niente, se può essere Andrangheta, che può essere Camorra, cioè non è che dobbiamo accreditarlo per definizione. Quindi inserendomi in questo discorso che comunque interessa a tutti, non solo certe regioni, quelle regioni. Come per tanti individui sembrerebbe il dovere soltanto confinare in certe regioni. Tu ci parli appunto non solo della Calabria, quale è terra infestata dalla mafia, ma di tutta l'Italia. E io sottolineo col pennarello la tua affermazione, perché anche nella nostra regione comunque il sistema è questo. Insomma non possiamo negarlo, è un dato di fatto. Tu dici proprio nel comunicato, l'Italia intera che è ormai contagiata da nord al sud, dall'espansione strisciante delle mafie e dei poteri occulti, veri e propri tumori della democrazia e del bene comune. E questa è una cosa che a mio avviso andrebbe sottolineata, questo attacco del sistema alla democrazia, al concetto stesso di democrazia. Perché nel momento in cui c'è un sistema mafioso che domina, significa che non c'è più democrazia. E continui dicendo che assumono decisioni pubbliche in luoghi privati, che trasformano la politica in borsa degli interessi individuali, ledono la concorrenza e il libero accesso ai mercati, si impadroniscono dei beni pubblici sottraendoli alla collettività e marginano chi non conta nulla e non ha potere da scambiare. Cosa puoi aggiungere a queste affermazioni che già di presa sono potentissime? Ma è l'esemplificazione di questi concetti che è veramente terribile. Oggi si stima, per esempio, che l'Andrangheta Holding abbia un giro d'affari annuo di 50 miliardi di Euro. 50 miliardi di Euro sono una grossa manovra finanziaria dello Stato, 50 miliardi di Euro sono il bilancio di uno degli Stati più piccoli d'Europa. 50 miliardi di Euro ogni anno immessi nel mercato italiano ed europeo sono capaci di avvelenare il sistema economico. E questi soldi non vengono immessi nei mercati del Sud, vengono immessi nei mercati del Nord, vengono immessi in questa regione, vengono immessi nella Lombardia, vengono immessi in aree dove la conquista non parte dal territorio come è accaduto in Calabria, parte prima dall'economia, dai capitali e poi arriva gradualmente al territorio. L'esempio della Lombardia mi pare per esempio abbastanza eloquente. Abbiamo avuto una fase in cui i capitali sono stati reinvestiti lì, la cronaca recente parla anche di meccanismi complessi di livello finanziario, ma anche le strade tradizionali come il settore immobiliare, il settore delle costruzioni, degli appalti pubblici. Gradualmente si arriva poi al controllo del territorio fino ad arrivare al controllo della politica, l'esempio di Buccinasco, l'esempio di altre realtà in cui si è arrivato poi ad avere una pesante ripercussione nei sistemi anche amministrativi locali. Questa è una cosa gravissima. Se a questo noi connettiamo anche un tessuto malato della politica, malato delle istituzioni, che va a finire dentro queste forme di logge massoniche deviate e che colludono con i sistemi criminali, siamo veramente a un pericolo enorme per la democrazia. Non siamo più di fronte a degli atti delinquenziali, siamo di fronte a una situazione che impoverisce in generale la democrazia. E oggi credo che tutti quanti, chi più chi meno, chi con maggiore lucidità, chi con una sensazione più di tipo epidermico, notiamo e sentiamo che in Italia la democrazia è malata, che c'è qualcosa di molto serio che non va. La gente non sa come esprimerla, a volte protesta, a volte trova sfogo su altri canali, perché comunque i media ufficiali purtroppo sono controllatissimi da questo punto di vista. Però la sensazione credo che sia riconosciuta da tutti quanti, così come anche questa percezione di impotenza di fronte al panorama politico italiano in cui la gente sente di non poter influire in nessun modo, che i giochi sono fatti altrove e che non c'è nessuna possibilità di irrompere nel panorama degli interessi costituiti. Questo credo che abbia molto, molto a che fare con la battaglia che stiamo portando avanti, perché in fondo i principi sono gli stessi. Se oggi io devo considerare un elemento, un minimo comune denominatore che va dalla crisi della democrazia fino all'andrangheta in Calabria, per esempio lo individuo nella mancanza di libertà dei mercati. Oggi in Italia non c'è una libertà autentica di mercato, dove per libertà di mercato io intendo ovviamente la libertà di concorrere, la libertà di accedere ai mercati. I mercati sono chiusi, le imprese non vanno avanti sulla base della loro capacità di essere competitive, ma più sulla loro capacità di creare reti di potere. La politica viene chiamata a tavolo di governo dell'economia e viene usata come tavolo di governo dell'economia. Cioè abbiamo una situazione in cui la libertà di mercato è il paradigma. Se vogliamo rileggere il fenomeno mafioso dal punto di vista economico, lo possiamo rileggere così. L'andrangheta, la mafia, è la negazione della concorrenza e della libertà di mercato per eccellenza. E infatti chi concorre nei mercati mafiosi viene ucciso, eliminato. Da l'eliminazione fisica a situazioni invece più soft, il passo è veramente molto breve perché comunque viene negata la possibilità di competere. Questo credo che debba essere una presa di consapevolezza di tutti. Infatti noi invitiamo la gente delle regioni del nord a cominciare ad aprire gli occhi, a capire che cosa sta accadendo nel proprio territorio, come si muovono i capitali, come si muovono le imprese, come queste sono collegate alla politica, come queste determinano i movimenti dei consensi a livello anche amministrativo. La capacità della gente di avere un osservatorio vigile sul proprio territorio credo che sia il primo passo nella ricostruzione di un tessuto democratico che passa necessariamente attraverso un lavoro paziente, difficile, di decodifiche e riappropriazione del proprio territorio. Anche la mancanza di ideologia è tipicamente mafioso come atteggiamento che sta in qualche maniera un pochettino prendendo il sopravvento negli ultimi 10-15 anni nel nostro Paese, dico dal punto di vista politico. Purtroppo stiamo scivolando in una sorta di vuoto ideologico che poi speriamo che non sia vero fino in fondo. Questa è la sensazione a pelle della gente comune, quello che si sente per le strade. Non andrò a votare alle prossime elezioni perché tanto non cambierà niente. Non c'è più un'ideologia di partito. Destra, sinistra, alto e in basso non stiamo a fare nessun tipo di distinzione ma in una democrazia ci dovrebbero essere contrapposte diversi tipi di ideologie. Io personalmente non è che le veda in maniera così netta. E questo credo che sia tipicamente tipico di un sistema prettamente mafioso dove non credo vi sia un'ideologia di sostegno, vi è un'ideologia di sostegno di supporto all'atteggiamento mafioso. Ma di solito sì. Ma di solito sì. Devo dire che il potere con la P maiuscola, quello che chiede cieca obbedienza ai suoi uomini, a coloro che ne fanno parte, costruisce delle ideologie in realtà robustissime, fortissime. Credo che questo invece dimostri chiaramente come oggi i partiti in Italia non esprimano la vera radice del potere ma siano piuttosto la vetrina di poteri che stanno altrove che invece sono ben radicati ideologicamente su alcune posizioni. Quindi tu parli di ideologia del potere, del potere su. Assolutamente, assolutamente. Io credo che le ideologie in senso lato ovviamente contemplando anche quelle ovviamente negative siano caratteristiche di ogni potere che chiede cieca obbedienza ai propri membri. Sia caratteristiche le ideologie forti, assolute sono caratteristiche dell'andrangheta, sono caratteristiche delle logge massoniche deviate, sono caratteristiche di ogni potere che si nutre della cieca obbedienza di una serie di persone. credo che invece lo svuotamento ideologico a cui noi assistiamo nel panorama dei partiti in Italia sia espressione del fatto che non sta lì il vero potere. Cioè che il potere politico non si legittima da solo ma viene in qualche maniera ad essere interprete secondario di vetrina, di facciata di poteri che stanno altrove e questa è un'ulteriore spia preoccupante della situazione. Torniamo al primo marzo perché ci tengo tantissimo che cosa state organizzando come si può aderire se si può aderire so che già parecchie organizzazioni si parla già di 500 organizzazioni hanno aderito quasi 2000 cittadini se non sbaglio e in quale maniera si può aderire e che cosa state organizzando per il primo marzo a Locri. Noi abbiamo messo online quest'appello per un'alleanza per la Locri e per la Calabria e dunque per i ragionamenti che dicevamo prima per l'Italia intera l'abbiamo messo su internet sul sito www.consorziosociale.coop chiunque può sottoscrivere quest'appello sapendo che la sottoscrizione è una sottoscrizione impegnativa non solo perché in qualche maniera si vengono chiesti una serie di dati per essere ricontattati ma perché chiediamo a tutti che sia un atto consapevole e un atto che è il primo passo di una serie di impegni che ognuno si assume dentro questo percorso di liberazione quindi l'appello si sottoscrive sul nostro sito e poi chiediamo ovviamente a tutti quanti sia a chi ha sottoscritto l'appello sia a chi non lo ha sottoscritto di essere all'ocri il primo marzo per rendere visibile questa alleanza che si è creata in tutta Italia e questo è un passaggio veramente fondamentale non è una manifestazione come le altre è un modo per mandare un messaggio chiaro a questi sistemi di potere e di morte per dire non solo che noi ci siamo ma che l'Italia intera c'è e che oggi non avranno più a che fare solo con le cooperative della Locride o le cooperative di Calabria Welfare eccetera ma si trovano con una rete ampia che cresce ogni giorno di più e che è determinata a non mollare la presa finché questo cambiamento non viene ottenuto il primo marzo faremo questa questa manifestazione che si aprirà con un segno molto forte un segno che nella nostra intenzione dovrà coinvolgere tutti i partecipanti alla manifestazione che dovrà parlare chiaramente al territorio che dovrà parlare chiaramente anche all'Andrangheta e alle massonerie deviate dopodiché si snoderà un corteo per le strade di Locri arriverà nella piazza centrale di Locri lì ci sarà un palco e faremo festa e faremo anche vedere e toccare con mano questa alleanza che si è costruita faremo festa perché vogliamo dimostrare di essere tutt'altro che abbattuti tutt'altro che rassegnati anzi di essere assolutamente felici di fare questo percorso e di rilanciarlo con grande decisione in futuro nello stesso tempo e quindi abbiamo invitato anche un sacco di artisti musicali della Calabria i migliori artisti musicali della Calabria ci sarà probabilmente con noi anche Paola Turci tra una sessione musicale e l'altra ci saranno i responsabili delle organizzazioni della società civile della cooperazione maggiormente rappresentativa in Italia che interverranno dal palco e manifesteranno questo loro intento di continuare il tutto si concluderà verso le ore 18 con il sigillo di questa alleanza e nello stesso tempo anche con una breve descrizione di cosa faremo dopo il primo marzo perché il bello inizia dopo il primo marzo il primo marzo faremo vedere l'alleanza che si è creata dal giorno dopo in poi andremo a costruire invece un percorso concreto che intende utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per riuscire ad emancipare la gente di Calabria e la gente che in qualche maniera vorrà seguire questo percorso Per quanto riguarda gli spostamenti dal nord al sud avete organizzato qualcosa voli treni speciali insomma per favorire un pochettino l'afflusso di persone avevamo organizzato un treno speciale solo che l'abbiamo dovuto disdire perché le ferrovie dello Stato ci hanno dato dei tempi di percorrenza assolutamente impossibili senza nessuna garanzia di ulteriore ritardo quindi abbiamo dovuto rinunciare veramente per tutelare la gente che verrà giù stiamo consigliando di prendere i treni di linea i voli di linea quando ci fosse un numero sufficiente di persone possiamo anche pensare di organizzare dei voli charter e molti invece si stanno organizzando con degli autobus al seguito per venire giù dai due aeroporti di Reggio Calabria e di Lamezia abbiamo organizzato un servizio navetta che consentirà di raggiungere la Locride velocemente così come pure dalla stazione di Rosarno che è la dorsale tirrenica della linea ferroviaria quella raggiunta dagli Eurostar c'è anche un servizio navetta che porta rapidamente nella Locride quindi ci sono delle facilitazioni in questo senso quanto credi che questa forte mobilitazione speriamo forte mobilitazione popolare possa essere ascoltata dai vertici istituzionali soprattutto in questa fase politica che è insomma un pochettino dissestata chiamiamola così ma io qui direi una cosa provocatoria a noi forse non interessa molto che sia ascoltata dai vertici istituzionali questo a noi interessa che sia ascoltata dalla gente a noi interessa che sia ascoltata dalle imprese e dalla società civile in Italia a noi interessa costruire un percorso dal basso anzi che ridia libertà ai partiti e alla politica in Italia cioè è tutt'altro crediamo che noi possiamo essere utili alla politica non la politica a noi e proprio in un momento in cui appunto c'è un sistema purtroppo in molte regioni del sud in Calabria sicuramente un sistema di scambio del voto per cui la gente è costretta a dar via il suo voto per avere in cambio i bisogni fondamentali di sopravvivenza quotidiana noi pensiamo e speriamo di poter ridare libertà al voto dell'agente in modo tale che automaticamente si possa ridare libertà ai partiti e in modo tale che chi i partiti liberi da questa spreggevole pratica del voto di scambio possono essere veramente liberi di distruggere le mafie di distruggere questi sistemi deviati e di pensare al bene comune dell'agente finché noi non riusciremo a interrompere questo scambio bisogni dell'agente conferimento del voto io credo che non riusciremo a combattere veramente la mafia e lo Stato non avrà sufficiente libertà per portare fino in fondo questa lotta come è accaduto d'altronde perché io non credo che ci siano state delle azioni significative dello Stato contro il sistema si è fatto qualcosa sicuramente di importante in questi anni ma il sistema non lo si è destrutturato l'andrangheta è ancora forte i santisti continuano a imperversare la santa c'è le massonerie deviate pure non si è messo in crisi il sistema si sono fatti degli arresti per l'amor di Dio ma ancora ce ne vuole tanto e soprattutto ce ne vuole tanto di libertà da parte dei partiti lascio solo immaginare noi stimiamo che in Calabria sia comprabile e vendibile almeno il 60 70% dei voti lascio solo immaginare quale pericolo per la democrazia in Italia è questo 60 70% dei voti in un momento storico in cui in Italia si perde o si vince per qualche migliaio di voti praticamente state avviando una lotta per la riconquista della democrazia nel vero senso della parola per riaccendere un po' il pensiero critico della gente farla sentire ancora partecipe come dovrebbe essere in ambito democratico che è quello che poi è venuto a mancare negli ultimi anni certo nella speranza che questo inneschi proprio un circuito virtuoso la partenza di Monsignor Bregantini volevo così ricordarlo un attimo anche perché è persona stimabilissima che credo abbia dato veramente tanto alla Locride in che modo vi state adoperando per coprire il vuoto che ha lasciato Monsignor Bregantini credo che la migliore cosa per testimoniare l'opera la straordinaria opera che Monsignor Bregantini ha compiuto nella Locride in Calabria sia quello di dimostrare che tutto quello che si è costruito sino ad oggi abbia gambe robuste per andare avanti anche senza di lui credo che non ci sia testimonianza migliore dell'efficacia del suo lavoro sino ad oggi e credo che questa alleanza che si sta creando senza l'aiuto di Monsignor Bregantini e senza che Monsignor Bregantini venga il primo marzo tra l'altro questo voglio sgomberare il campo sia la testimonianza il successo di questo evento l'alleanza che si sta creando sia la testimonianza più eloquente di quanto la sua opera si sia radicata ormai nel territorio al punto tale da costruire una cosa così importante senza di lui e senza aver avuto bisogno del suo apporto volevo fare riferimento a una frase a una definizione che diede Giovanni Falcone della mafia lui diceva la mafia non è affatto invincibile è un fatto umano e come tutti i fatti umani a un inizio avrà anche una fine piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo eroismo dai nermi cittadini ma impegnando in questa battaglia tutte le forze tutte le forze migliori dell'istituzione lui dice che non gli sembra azzardato affermare che una delle cause dell'attuale virulenza della mafia attuale ai suoi tempi ma attuale anche adesso risieda proprio nella scarsa attenzione complessiva dello Stato nei confronti di questa secolare realtà cosa ne pensi di queste sue affermazioni che mi sembrano di un'attualità spaventosa sì credo proprio di sì noi dobbiamo fare molta attenzione a non divinizzare la mafia a non divinizzare l'andrangheta che è quello che loro tentano di fare anche attraverso i loro atti violenti gli atti violenti non a caso hanno sempre una forte connotazione simbolica che tende ad esaltare l'onnipotenza dell'andrangheta di tutte le mafie quando ci fu la strage di Duisburg noi notammo come tutti i media che parlavano di questo evento qui facevano sostanzialmente una grande esaltazione della potenza dell'andrangheta a livello internazionale la potenza militare la capacità di radicarsi e anche il fatto stesso che l'andrangheta abbia scelto di fare quest'atto in modo così plateale violento nel territorio tedesco ha comunque l'intento di parlare in sé a prescindere dal fatto cioè l'andrangheta è molto più interessata paradossalmente ai segni che connotano la sua azione che all'azione stessa è molto più interessata a uccidere in un particolar modo piuttosto che a uccidere tutto questo ci fa capire che in un certo senso sta bleffando cioè che ha bisogno di manifestare di dimostrare questa sua onnipotenza no? io ritengo invece che l'andrangheta oggi sia veramente costituita da una minoranza di persone e credo proprio che la loro il loro disperato bisogno è di dimostrare questa loro forza questa loro onnipotenza in quanto è da questo che ne deriva la loro stessa sopravvivenza da parte nostra noi dobbiamo porre segni esattamente opposti no? che abbiano la capacità di convincere la gente invece che l'andrangheta si può sconfiggere per noi è stato per esempio straordinario la possibilità di aver avuto per tre volte di seguito attentati a delle cooperative sociali e per tre volte di seguito questi attentati non solo non hanno fermato il cammino di queste cooperative ma addirittura lo hanno rilanciato nel senso che si è creata una solidarietà economica che è riuscita a coprire danni ma si è creata anche una solidarietà di relazioni di persone anche mediatica che ha aiutato queste cooperative a svilupparsi di più cioè col risultato che l'attentato ha rafforzato queste cooperative invece che indebolirle è la prima volta almeno per quanto ne sappia io che avviene una cosa di questo tipo nella mia terra tutto questo è una vittoria simbolica straordinaria è o qualcosa che parla alla gente ha parlato alla gente più che mille altri attentati dall'altro lato dobbiamo desacralizzare i segni della mafia i segni del potere mafioso per esempio noi siamo usciti con un comunicato stampa in corrispondenza della strage di Duisburg intitolato proprio mentre i giornali osannavano questa onnipotenza dell'andrancheta noi abbiamo titolato il comunicato stampa il fallimento dell'andrancheta sostanzialmente dicendo alla maggior parte degli indranchetisti ormai è abbastanza noto a tutti e anche gli stessi magistrati lo dicono che il 90% delle ricchezze dell'andrancheta sono nelle mani del 10% degli affiliati quindi il 90% è sfruttato dalla stessa andrancheta è utilizzato per il lavoro sporco è utilizzato per tutti quei compiti ad alto rischio di carcere tutto quello che apparentemente guadagnano in più poi lo devono spendere in avvocati fanno una vita di forte rischio perché la maggior parte dei morti uccisi sono dranghetisti stessi quindi sostanzialmente che organizzazione è quella che uccide se stessa è un'organizzazione fallimentare è gente che cresce non vedendo cioè che che non vede i propri figli crescere che non vede la propria famiglia cioè sostanzialmente è un fallimento totale e noi abbiamo titolato questo il fallimento dell'andrancheta perché ci pareva che quella feratezza non testimoniasse l'onnipotenza ma la stupidità dell'andrancheta e la stupidità di chi ancora va dietro all'andrancheta va dietro promesse che in realtà verranno soddisfatte solo per pochi ci sono pochi furbi c'è i santisti che faranno strada che reinvestiranno i loro capitali che riusciranno in qualche maniera a guadagnare ricchezze e ci saranno tanti che invece vedranno la loro vita letteralmente rovinata dall'illusione dell'andrancheta stessa ecco noi dobbiamo dissacrare queste cose qui noi dobbiamo avere la capacità di far vedere agli andranchetisti stessi in quali imbroglio sono caduti e questo credo che sia fondamentale perché la nostra battaglia non è contro le persone che stanno nell'andrancheta noi combattiamo l'andrancheta noi combattiamo le massonerie deviate noi vogliamo distruggere l'andrancheta e le massonerie deviate ma vorremmo dare veramente una serie di mano d'aiuto a chi ci è finito dentro perché siamo convinti che la maggior parte di loro è stato fregato e siamo convinti che noi abbiamo una proposta molto più seria di quella che è l'andrancheta magari apparentemente più faticosa apparentemente più densa di sacrifici ma alla lunga che paga molto di più della scelta dell'andrancheta voglio fare un altro riferimento a Giovanni Falcone che insomma la stima per Giovanni Falcone credo che sia condivisa pienamente lui fa questo riferimento alla particolare capacità della mafia di modellare con prontezza ed elasticità ai valori arcaici alle mutevoli esigenze dei tempi e questo costituisce una delle ragioni più profonde della forza di tale consorteria che la rende tanto diversa se oltre a ciò dice si considerano la sua capacità di mimetizzazione nella società la tremenda forza di intimidazione derivante dall'inesorabile ferocia delle punizioni inflite ai trasgressori o a chi si oppone ai suoi disegni criminosi l'elevato numero e la statura criminale dei suoi adepti ci si può rendere però conto dello straordinario spessore di questa organizzazione sempre nuova e sempre uguale a se stessa questa capacità di mimetizzarsi questa capacità di essere così elastica di intrappolare come dicevi tu nelle sue come se fosse una sorta di mangrovia questa cosa per cui uno rimane incastrato e non ne riesce più ad uscire a meno che non si attacchi a queste nuove situazioni che stanno per fortuna nascendo in alternativa che sono appunto la lotta al sistema mafioso sì anche qui in questo caso io veramente credo che bisogna avere la forza di dissacrare anche questa loro capacità questa è una capacità che si fonda sulla nostra sulla nostra passività sulla nostra incapacità di contrapporre una verità chiara a questa cosa è vero loro fanno riferimento a dei valori tradizionali forti al punto tale però che molti figli di famiglie mafiose sono letteralmente costretti e violentati psicologicamente ad aderire all'organizzazione stessa cioè io credo che questa sia vera e pura violenza non è capacità non è abilità è l'utilizzo spregiudicato della violenza che in qualche maniera viene esaltato da una mancanza di chiarezza da parte di tutti io per esempio credo che la Chiesa potrebbe e dovrebbe essere molto dura nel delegittimare una serie di cose dovrebbe avere la capacità con l'autorevolezza morale di cui è portatrice di esprimere parole di grande chiarezza all'interno dei territori il problema dei legami familiari in rapporto al discorso dell'obbedienza mafiosa io credo che dobbiamo avere la forza e il coraggio di dire che in alcuni casi è lecito e auspicabile disobbedire alla famiglia credo che dobbiamo avere anche il coraggio di dire chiaramente che la religiosità che esprimono è una religiosità eretica e avere anche la forza di tirarne le conseguenze di tutto ciò così come anche tutta una serie di conduzioni delle feste patronali cioè la loro capacità di utilizzare di violentare valori culturali tradizionali sani al loro interesse è direttamente proporzionale alla nostra ignavia nel delegittimare un utilizzo così violento di questi valori quindi ci diamo l'appuntamento il 29 febbraio o il primo marzo comunque il 29 febbraio sarebbe ancora più carino visto che la sera precedente che cosa hai organizzato? faremo una di sera il 29 sera faremo una veglia ecumenica di preghiera per la libertà e la democrazia in Calabria una veglia ecumenica perché la la organizziamo cattolici ed evangelici protestanti insieme e tenteremo veramente di riportare la preghiera in strada dentro l'economia dentro la società dentro la politica cercando di far sì che la preghiera diventi per chi di noi crede uno strumento formidabile e potentissimo di cambiamento della storia quindi appuntamento al 29 spero ma soprattutto all'uno per chi anche non è credente perché insomma all'uno per dimostrare che si sta avviando un percorso di riconquista della nostra libertà e della nostra democrazia e quindi per combattere questo orribile sistema mafioso che ci sta schiacciando poi tutti io invito tutti ad esserci perché credo e spero che l'uno marzo sarà una grande pagina di democrazia nella storia del nostro paese ne abbiamo bisognissimo proprio grazie Vincenzo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti